Ormai sapete che quando ho questa tenuta vi sto per parlare di comportamenti antisportivi. Nel 1996 due giocatori di Warcraft 2 erano talmente forti che non riuscivano più a trovare gente nel matchmaking online contro cui giocare. Di conseguenza crearono due account, Papa Smurf e Smurfette. Questi due account di base erano di livello più basso, nessuno li conosceva e così potevano far finta di essere più scarsi per poi distruggere completamente gli avversari. Il termine Smurf oggi indica un account che viene tenuto a basso livello apposta per poi stracciare gli avversari. Uno Smurf si può fare su qualunque videogioco, penso ad Apex ma anche a Fortnite e così via. In tutti i titoli le persone di alto livello molto spesso creano un nuovo account. In questi casi si distingue lo Smurf di cui abbiamo appena parlato da un alt che sta per alternate account. Lo Smurf ha già una connotazione negativa di suo e come avrete capito vuole essere un account di basso livello per rompere le scatole agli altri. L'alt invece, l'alternate account, è qualcosa di strutturato in modo genuino. Infatti molti giochi permettono la possibilità di avere un alt account, mentre gli Smurf sono sempre visti in modo molto negativo. Gli alternate account hanno lo scopo genuino di insegnare qualcosa ancora al giocatore. Vi faccio un esempio di un alternate account che io potrei utilizzare. Io non so usare il pad nei giochi FPS. Se domani volessi creare un nuovo account su Apex sicuramente vorrei provare a salire utilizzando questo. Ecco fatto che ho creato un account alternativa, un alt account. Se volete saperne di più anche su un paio di fenomeni che avvengono intorno al mondo degli alternate account e gli Smurf, mi raccomando, seguitemi e lasciate un like. Grazie a tutti.